Bene, veniamo a questa storia che vi racconto oggi. In realtà si tratta di un progetto, il progetto è una parola troppo esagerata per questa cosa qui. E si tratta di un'idea che ha più di vent'anni, anzi precisamente nel 2000, quando Bologna fu capitale della cultura e il comune, come sempre succede, fece tutta una serie di opuscoli, depnate, eccetera, e mi chiese di scrivere alcune pagine per ricordare l'astronomia di Bologna, eccetera. E in quel caso mi accorsi che in realtà in città, questo non è vero solo per Bologna ovviamente, in città ci sono tante cose che meritano di essere raccontate alla gente. E così ho cominciato un po' alla volta a prendere un po' di appunti, a raccogliere delle immagini, dei testi, delle figure, delle idee, come dicevo. Sono rimasto in fondo al cassetto, poi qualche anno fa sono venuto fuori da quel cassetto e ho scritto questo libretto di cui vedete qui la copertina, l'anno scorso pubblicato, grazie all'editore Persiani di Bologna, che è stato estremamente disponibile nei miei confronti, con uno staff di curatori veramente molto appassionati, molto attenti. Quindi sono rimasto soddisfatto della collaborazione che ho avuto da questo editore. Bene, di che cosa parla questo libro, che cosa ho voluto raccontare in questo libro? Forse c'è una frase di Calvino, che peraltro ho trovato poco prima di stampare il libro e quindi mi è piaciuto metterla in esergo, che sintetizza, come Calvino è capace di fare, le idee che io avevo in testa e che mi avevano portato a scrivere queste cose. Nelle città invisibili, che per me è un libro splendido, Calvino scrive, la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmi, nelle aste delle bandiere, Ogni segmento rigata a sua volta di graffi e seghettature in tagli e svirgole. Ecco, quello che io ho cercato di fare in questo libretto è stato proprio quello di parlare del passato astronomico della città di Bologna, provando a guardare un po' in queste seghettature in tagli e svirgole di cui parla Calvino. L'idea mia non è stata quella di fare una specie di guida turistica astronomica, altre ne sono state di recente per alcune città, ma di fare una serie, una collezione di piccole storie astronomiche, che ho raccontato prendendo spunto da quei segni che si trovano per la città, e molti dei quali non tutti oggi sono in grado di leggerli, siamo in grado di leggerli perché fanno parte di una cultura che non ci appartiene più. E quindi così noi andiamo dall'orientamento astronomico degli edifici, fuori sostiziali, meridiani, orologi da torre, simbolismi astronomici che troviamo un po' dappertutto in decorazioni, a freschi, volte, edifici che hanno aspettato un astronomo, un'osservazione, un esperimento o uno strumento. Per fare questo vediamo com'è fatta la città, iniziamo appunto da vedere com'è la città, è fatta questa vista aerea di Bologna, riconoscete immagino le due torri, le dimensioni imponenti della Basilica di San Petronio, ricordo ai non bolognesi che non è il Duomo di Bologna, il Duomo di Bologna è questo, è San Pietro, ma è una basilica voluta dal comune. Da questa immagine possiamo vedere un certo tipo di orientamento, si riconosce il tracciato dell'antica Via Emilia da Piacenza a Rimini e si riconosce bene anche il tracciato dell'antico Decumano. I Cardi non si conoscono più perché le costruzioni successive hanno nascosto completamente quello che era il tracciato, il tracciato primitivo. Questo dà lo spunto di parlare del modo in cui l'epoca etrusca, visto che Bologna è nata come città etrusca, e Pana venivano edificate le città, L'Augure prima identificava col bastone sacro un orientamento a terra e questo era un simbolo a terra di quella che era la suddivisione del Tempio Celeste. In questo modo veniva individuato quello che si chiamava il Sacro Mundus, cioè veniva fatto un fossato ripieno di offerte votive e questo costituiva un importante punto di comunicazione fra quelli che erano i tre domini fondamentali, quello celeste, quello terrestre e quegli inferi, portando così un buon auspicio alla città che teneva legati appunto questi tre fondamentali domini. E questo era il cosiddetto sulcus primigenius, probabilmente a parlare di sulcus primigenius viene in mente a tutti una storia che conosciamo fino da quando eravamo bambini. Romolo decide di fondare Roma e fa il famoso sulcus primigenius, cioè comincia a scavare un fossato. Arriva il fratello e inopinatamente scavalca il fossato. In un mondo normale Romolo cosa avrebbe fatto al fratello? Gli avrebbe detto dai pianta, non vedi che sto lavorando, lasciami stare, vai a fare le tue cose. E invece no, Romolo prende e l'ammazza. Sembra una cosa un po' pesante se uno non fa mente proprio a quello che ho appena detto, vale a dire che il sulcus che stava scavando Romolo era un segno propizzatorio per il futuro della città. Scavalcandolo veniva interrotto il legame fra questi tre domini. Guardando quella che era la struttura dell'antica Felsina, che qui è schematizzata in giallo, ringrazio Emanuele Incerti che ho visto che è presente per avermi fornito questa sua ricostruzione. In giallo è schematizzato il primo insediamento etrusco circa del VI a.C. e il primo insediamento romano del II a.C., mentre in verde c'è l'ampliamento di epoca imperiale. Come si vede già da questa figura schematica, nonostante quello che abbiamo detto, il sulcus di Felsina non sarebbe stato orientato nord-sud-est-ovest. Bensì, facendo un po' di conti, si vede che è orientato di 13 gradi verso sud. Allora, ricordandomi che sono un astronomo, non mi è stato difficile trovare i giorni in cui il sole sorge all'orizzonte nella direzione appunto di 13 gradi a sud rispetto a est e quello che ho trovato mi ha confortato il risultato perché era lo stesso risultato che senza saperlo aveva trovato indipendentemente anche appunto Emanuele Incerti. Vale a dire, il sole sorge in quella posizione tra la fine di febbraio e i primi di marzo naturalmente non stiamo parlando di un giorno ma stiamo parlando di alcuni giorni perché era la precisione con cui avvenivano questi orientamenti. Bene, questi giorni tra fine febbraio e primi marzo sono i giorni in cui iniziava il calendario etrusco e l'arcaico calendario romano. Quindi quello che uno può immaginare è che la scelta sia stata quella proprio di orientare la città verso quelli che erano i giorni d'inizio del calendario. Da dove iniziamo il nostro giro per Bologna? Come diceva Lucio Dalla, dal centro di Bologna dove non si perde neanche il bambino. Qui rivediamo le due torri, rivediamo la basilica di San Petronio e la grande piazza maggiore. Entriamo in San Petronio di risparmio delle lucubrazioni fatte da alcuni riguardo alla forma della facciata di San Petronio iscritta in un cerchio, in un triangolo, in quello che è. Solo una cosa, io qui oggi vi darò alcuni flash di alcune delle cose che ho raccontato nel libro un po' più in dettaglio giusto per darvi un'idea di come ho affrontato questa mia chiacchierata per le storie bolognesi. Entrando in San Petronio la prima cosa che si trova davanti in pratica è la meridiana, la grande meridiana di San Petronio come viene chiamata. Bisogna sapere che prima della meridiana che noi vediamo oggi in San Petronio c'era stata un'altra meridiana. nel 1575 fatta dal domenicano Ignazio Dante il quale faceva parte della commissione per la riforma del calendario e come sapete uno dei problemi cruciali dai tanti quello astronomico era legato alla durata dell'anno tropico cioè dell'anno solare per capire se come aggiungere o togliere quel famoso giorno bisestile con quella cosa complicata degli anni secolari multidivisibili per 400 eccetera non stiamo qui a perderci in questi dettagli calendariali sta di fatto che Ignazio Dante in breve tempo con questa meridiana più piccola e più spostata rispetto a quella che noi vediamo misurò la durata dell'anno tropico e con questa misura fu definito l'aspetto astronomico calendariale della riforma del calendario passa quasi un secolo e la navata su cui era stata praticato l'occhio della meridiana di Ignazio Dante viene allungata e quindi quella parete si abbatte la meridiana naturalmente non può funzionare più c'era chi diceva vabbè se non abbiamo una meridiana è lo stesso c'era chi diceva non ci vuole eccetera a questo punto compare un personaggio molto importante in tutta la storia del 600 come astronomo Gian Domenico Cassini da alcuni anni Ligure da alcuni anni presente a Bologna come insegnante di astronomia dell'università già famoso per aver fatto del tavolo dei moti dei satelliti di Giove molto importanti per questioni di determinazione della longitudine a terra eccetera il quale Cassini presenta un progetto estremamente complicato e difficile da realizzare questo è uno del probabilmente uno dei primi schizzi del progetto di Cassini che abbiamo nel archivio del dipartimento di astronomia il progetto diceva è estremamente difficile perché come si vede da queste immagini questa è una fotografia che ho ripreso dal punto del sostizio d'estate e questa invece è ripresa dal punto del sostizio d'inverno e infatti si vede qua su in cima all'occhio della meridiana con un sole proiettato con uno strumento particolare che aveva ideato lo stesso Cassini si vede da queste immagini come il filo della meridiana sfiori appena la base di due colonne e questo fa sì che fosse estremamente difficile riuscire a individuare con grande precisione quello che era il punto esatto in cui mettere l'occhio della meridiana perché capite che a questo punto bastava spostarlo di qualche millimetro e la meridiana sarebbe caduta esattamente su una delle colonne non sarebbe così diventata quella che era e quella che è ancora oggi la più lunga linea meridiana al mondo circa 67 metri perché Cassini ha voluto fare una meridiana così grande e così importante perché scrive Fabroni nella vita degli italiani illustri glorioso fu per la scienza astronomica l'anno 1655 nel quale Cassini portò a compimento uno strumento sommamente splendido erano due le idee di Cassini uno ufficiale ed era quella di verificare l'accuratezza della riforma gregoriana erano passati una settantina d'anni ma ancora si discuteva se quel complicato sistema di aggiungere o togliere i bisestili in alcuni anni particolari funzionava o no Cassini fa la misura misura quant'è la durata dell'anno tropico la confronta con quella di Danti vede che tutto sommato va bene e quindi dice guardate la riforma del calendario è perfetta durerà almeno fino all'anno 4000 il che infatti è vero l'altro problema non esplicitamente dichiarato invece è un problema molto delicato siamo a Bologna nella città più importante dello stato della chiesa dopo Roma uno dei più importanti studi universitari d'Europa sono passati neanche vent'anni dal processo a Galileo quindi la situazione che pensa Cassini di mettersi a discutere su alcuni punti relativi a quello che è il moto dei corpi celesti è una situazione estremamente delicata però era questo che Cassini aveva in mente vale a dire verificare se quelle variazioni di velocità apparente del moto del sole conosciute fin dai tempi antichi tant'è che Ptolomeo lo risolve con un'eccentricità della terra se quelle variazioni di velocità erano solo apparenti un effetto di prospettiva quando il sole era un po' più lontano sembrava andare più lentamente quando era un po' più vicino sembrava andare più velocemente e quindi come diceva era puramente un effetto di prospettiva non erano variazioni di velocità reale Cassini invece misurando le variazioni del diametro apparente del sole sulla meridiana e le variazioni di velocità del sole nel corso dei mesi verifica che non esiste nessuna proporzionalità diretta fra le due cose anzi che il rapporto fra le variazioni di velocità e la distanza è esattamente quello che prevedeva aveva previsto Keplero quando aveva espresso nel 1609 la sua seconda legge e questa è la prima verifica osservativa in assoluto della validità della seconda legge di Keplero qui siamo nel 1655 quindi siamo una trentina d'anni prima di Newton per cui è un'esercito di questo ma questo è un punto estremamente importante per quello che riguarda le scelte relative a un sistema o all'altro e appena fatto questo Cassini pubblica un foglio volante come usava all'epoca che inizia dicendo vicimus mecenates illustrissimi è rivolto ai mecenati che gli hanno consentito di realizzare quella meridiana dandogli anche un discreto stipendio perché abbiamo vinto a voi che avete reso possibile la mia impresa io conduco in trionfi i cavalli del sole sino ad oggi domabili ora viate delle vostre stesse armi quei cavalli che non si riuscivano a domare fino ad allora non si riusciva a capire bene come funzionava questa situazione ecco adesso grazie a voi ve li porto completamente domati ma rimanendo in San Petronio e passando da uno strumento scientifico a un'opera d'arte una delle più belle secondo me del 400 bolognese e non solo bolognese c'è una cappella che si chiama Cappella Bolognini dal nome della famiglia dei committenti fatta da Giovanni da Modena tra il 1408 e il 1413 tristemente famosa perché nella parte sinistra dove c'è in basso raffigurato l'inferno sciaguratamente Giovanni da Modena ci ha messo Maometto che è divorato dai diavoli quindi questa cosa dopo l'11 settembre è diventata un pericolo per la città e sopra all'inferno naturalmente noi possiamo guardare come scusate ho sbagliato a Bolognese come sotto un bel cielo blu tra punto di stelle dorate noi troviamo il paradiso il paradiso con i cieli angelici che consentono quindi di raccontare quella che era la descrizione del cosmo aristotelico che qui è rappresentato e che è anche il cosmo dantesco quindi il discorso qui chiaramente si può ampliare molto estremamente interessante è la parente di fronte a questo dove c'è l'inferno e il paradiso che è questo grande racconto che prende il nome delle storie dei magi e naturalmente quando uno parla delle storie dei magi parla della cometa qui siamo nel 1408 è passato un anno scusate un secolo da quando Giotto per primo ha dipinto una cometa sulla cappella degli Scrovegni avendo certamente visto nel 1301 il passaggio della cometa di Halle l'idea che Giovanni da Modena abbia visto la cometa di Halle non è accettabile perché il passaggio successivo a questo della cometa è stato proprio negli anni in cui Giovanni da Modena nasceva quindi non può averla vista ma consultando i cataloghi delle comete storiche si trova che nel 1402 cioè subito prima che Giovanni da Modena facesse questi affreschi rappresentasse questa cometa c'era la cometa del 1402 che è una cometa famosissima perché è considerata la cometa più brillante mai vista in assoluto ad occhi nudi come sapete la cometa è portatrice di ventura e di sventura e naturalmente la cometa del 1402 portò grande sventura ai bolognesi perché Bologna fu occupata dai milanesi da Gian Galeazzo Visconti e per un certo periodo di tempo rimase una sorta di feudo di feudo milanese però siccome come si suol dire la dea bendata non ci vede ma quell'altra che ha un altro nome ci vede benissimo il buon Galeazzo Visconti qualche mese dopo muore di peste a Melignano quindi la cometa possiamo dire che ha colpito saggiamente sia Bologna che il Gian Galeazzo Visconti se riuscisse ad andare avanti sì scusatemi ma ogni tanto ha qualche problema ci siamo va bene di fronte alla Cappella Bolognini che abbiamo appena visto c'è un'altra Cappella dell'Immacolata che presenta un bel pavimento maiolicato ma di tutt'altra epoca qui siamo nel 1929 ed è curioso notare che in tre di queste mattonelle ci sono dei riferimenti astronomici naturalmente è una cometa probabilmente a ricordo della Cappella Bolognini di fronte con la storia dei Magi ma c'è anche una luna con un bel cerco di stelle e un'altra luna che si sta mangiando addentandolo direttamente un demonio e di luna sempre possiamo parlare in San Petronio perché dietro all'altare c'è questo grande dipinto di Franceschini del secondo metà del Seicento ben noto ai Bolognesi perché qui c'è il santo protettore San Petronio che tiene la mano sul modellino della città ma non tutti pongono attenzione a questa grande e improbabile face di luna che sta ai piedi della Madonna e che è certamente da parte di Franceschini un ricordo della ben nota Madonna di Dürer del 1511 questa incisione splendida in cui la falce di luna è ancora più impossibile ma deve avere un significato estremamente riconoscibile che Dürer ha mente in maniera ben precisa perché lui si richiama alla descrizione dell'Apocalisse nel cielo apparve un segno grandioso una donna vestita di sole con la luna ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle c'è anche in Franceschini anche se non si vede anche se non si vede molto bene usciamo da San Petronio anche se qualcos'altro lì dentro si potrebbe dire e sulla sinistra troviamo il palazzo comunale detto dai bolognesi chiamato anche palazzo da Cursio perché nel 200 fu il comune lo acquistò dal lettore di legge dell'università che si chiamava appunto da Cursio poi il palazzo è stato variamente modificato nel corso del tempo e soprattutto gli è stata costruita una torre questa è la visione attuale della torre come è stata ricostruita nel 1885 ma la torre ha avuto varie vicissitudini soprattutto una grande e imponente torre fu costruita dal cardinale Bessarione quando a metà del 400 assieme a tanti altri intellettuali fuggì da Costantinopoli colpita dai colpita dai turchi e si rifugiò in Italia il cardinale Bessarione fu legato a pontificio a Bologna per un certo tempo e fece costruire questa torre con un grande orologio astronomico astrologico come oggi se ne vedono ancora per esempio a Praga a Monaco di Baviera con delle finestrelle da cui ora è definita uscivano dei figuranti eccetera pochi anni dopo in occasione di una festa i bolognesi c'erano una sorta di fuochi artificiali dalla cima della torretta di legno che prese fuoco per cui è andato tutto distrutto e oggi di quella processione di figurine che usciva alle ore dovute rimangono solamente queste quattro figure con due remaggi un cavaliere un angelo che suona la tromba anche l'orologio è andato distrutto è stato rifatto nel 1771 è stato restaurato pochi anni fa e funziona perfettamente e addirittura se qualcuno viene a Bologna voglia di andarla a vedere ci sono delle visite guidate che consentono di andare sulla torre a vedere il nuovo meccanismo il rinnovato meccanismo meccanismo dell'orologio peraltro Bologna aveva un orologio già da parecchio tempo questo documento dell'archivio di questo documento questa fascetta di carta con questa scritta la figurina di una campana ci attesta dell'archivio di Stato ci attesta che il primo orologio che avesse il comune di Bologna cominciò a suonare il 19 marzo del 1356 e fu messo sulla torre del capitano questo l'edificio esattamente di fronte a San Petrone è chiamata la torre del capitano che dà sulla piazza e lo fece fare questo tale Zoanne da Uoleggio il quale Zoanne da Uoleggio non è altro che Giovanni Visconti da Uoleggio sempre milanese capitano del popolo nominato dall'arcivescovo di Milano Giovanni Giovanni Visconti il Visconti da Uoleggio possiamo immaginare che quando ha deciso di far fare questo orologio che in realtà non era altro che uno svegliarino all'inizio cioè non c'era neanche il quadrante con le ore semplicemente c'era un meccanismo che suonava faceva suonare la campana ogni ora possiamo immaginare dicevo che il Visconti da Uoleggio venuto a Bologna da Milano ricordasse quello che era già stato fatto a Milano da un po' e cioè l'orologio un ferro del 1309 sul campanile del Sant'Eustorgio che è considerato il primo orologio meccanico da torre italiano e uno dei primi in Europa subito poco dopo da quello che fu chiamato l'admirabile meccanismo sulla torre di San Gottardo in Torre sempre a Milano entrambi anche questi all'inizio erano dei semplici svegliarini la precisione dei meccanismi erano tali che non si poteva pensare che potessero segnare di più che le ore alle spalle del palazzo comunale palazzo da Cursi noi possiamo aprire un nuovo capitolo di questa storia che ho raccontato che riguarda le antiche strade del studio universitario di Bologna perché era proprio in queste stradine che si affollavano gli studenti nei primi anni dello studio ce lo ricordo una lapide che dice che il tratto di questa strada denominata in antico di Porta Nuova ancora oggi si chiama di Porta Nuova fu nei secoli XIII, XIV e XV il centro delle scuole di medicina, filosofia, retorica, astrologia e delle altre arti all'epoca all'epoca al Cicento praticamente fino all'epoca di Agnassio Dante che abbiamo ricordato prima l'insegnamento aveva alternativamente il nome di ad astrologia o ad astronomia come dicevo qui si affollavano gli studenti perché non c'era una sede per l'università a quell'epoca la sede come vedremo fu fatta nel Cinquecento non c'era una sede e le lezioni si tenevano o a casa di singoli professori oppure gruppi di professori si mettevano insieme e affittavano dei locali o venivano affittati dagli studenti quindi c'era una parcellizzazione dei posti dove si andava a insegnare un'altra lapide qui di fianco ci ricorda che qui ci furono le case di Guido Guinizelli poeta delle rime d'amore alle scuole di Giovanni del Virgilio che invitò Dante che fu il primo a insegnare all'università la Divina Commedia e invitò Dante a cingerla allora in Bologna una sorta potremmo dire quasi di contrapasso dantesco fronte a queste due lapidi ce n'è un'altra che ci ricorda che in quella casa nacque sempre in via Porta Nuova nacque Guglielmo Marconi che sulle onde dell'elettricità per il pronunciò la parola eccetera eccetera perché è una sorta di contrapasso perché come sappiamo Marconi non fece l'università anche se seguiva le lezioni di Fis non fece l'università però era nato esattamente nella strada in cui c'era stata l'antica l'antica città di Bologna ripercorrendo questa strada per tornare in centro si apre un altro breve capitolo della nostra storia che riguarda Galileo perché Galileo ha avuto un certo tipo di rapporto quando Egnazio Danti sempre quello di prima si trasferì a Roma e poi ad Alari a Roma dove oltre ad aver fatto un anemoscopio ha fatto anche quella strepitosa galleria delle carte geografiche che porta la Cappella Sistina che secondo me è una sorta di Cappella Sistina della geografia la cartografia ecco quando Egnazio Danti lasciò l'Università di Bologna rimase la cattedra di astronomia e matematica libera e Galileo stavo per dire appena laureato no perché Galileo non si è mai laureato il Giovanni Galileo fece domanda ma il senato bolognese gli scelse un ben più noto affermato Giovanni Antonio Maggini che era uno degli astronomi europei più rinomati all'epoca amico di Tico Bra in corrispondenza con Keplero però a Galileo evidentemente questa idea di Bologna gli è sempre rimasta perché nell'aprile del 1610 di ritorno dalla Toscana dove aveva portato a Cosimo dei Medici l'appena stampato Sidereus Nuncius e una copia del suo canocchiale si ferma a Bologna perché vuole parlare col Maggini che rispetta moltissimo che sa che è un personaggio importante che sa che si ottiene l'appoggio di Maggini per quelle che le sue osservazioni chiaramente questo gli fa molto comodo e quindi si ferma lì alcuni giorni ospite dello stesso Maggini e presenta il suo strumento ai personaggi bolognesi dall'alto di questa molto probabilmente quasi sicuro d'alto di questa torre detta degli Agresti dal nome della famiglia che all'epoca era più alta poi un incendio l'ha fatta abbassare che si trova in una piazza che si chiama non a caso piazza Galileo e noi abbiamo certezza di queste osservazioni di Galileo perché ce lo dice Martin Orchi un boemo in corrispondenza con Keplero una spiace però di ciarlatano anticopernicano violentissimo tanto che a un certo punto Keplero smette di rispondergli non ne vuole più sapere comunque il giorno dopo della partenza di Galileo e delle osservazioni di Galileo da qui dall'attore degli Agresti Orchi scrive subito a Keplero Galileo venne con quel super spicillum io ho provato questo strumento in mille modi sia suggetti terrestri che celesti nelle osservazioni terrestri fa miracoli ma in cielo fallisce le stelle fisse appaiono addoppiate testimoni eccellentissimi e nobilissimi dottori dovettero confessare che lo strumento falliva e il povero Galileo Miser Galileus scrive se ne andò da Bologna col super spicillum a parte che non è vero che il Miser Galileo se ne andò col super spicillum cioè se ne andò due giorni dopo salutato calorosamente dal Maggini quindi quello che scrive qui è un po' forzato anche se è vero e lo sappiamo benissimo la difficoltà che aveva chiunque per la prima volta ponesse l'occhio a un cannocchiale soprattutto un cannocchiale di tipo Galileano con le lenti fatte con i vetri che per il procurarsi anche se erano eccellenti per l'epoca insomma il problema non era non era un problema facile e a proposito delle sue scoperte dei sistemi del mondo di cui prima abbiamo parlato accennato anche riguardo a Cassini possiamo percorrere alcune strade che ci ricordano la presenza di Pernico a Bologna dove lui venne a studiare dal 1496 al 1500 doveva studiare diritto canonico ma in realtà studiò astronomia poi andò a Padova per tre anni a studiare medicina poi se l'aveva finalmente nel 1503 in diritto canonico a Bologna ed è tornato in Polonia e ha fatto quello che tutti noi sappiamo una lapide lo ricorda perché non abbiamo altre testimonianze ricorda che in quella strada cioè quella che si chiama via Galliera che è una delle più belle strade di Bologna anche se è poco frequentata in questa strada c'erano le case di alcuni docenti e si sa per certo che vicino a questa ex chiesa di San Giuseppe perché è una chiesa sconsacrata del tutto faticente vicino a questa chiesa di San Giuseppe e a un fornaio di cui non ricordo il nome c'era la casa di Domenico Maria da Novara che come ricorda anche la lapide era stato suo professore di astronomia all'università di Bologna e voglio qui ricordare un altro maestro di Copernico in momenti in cui siamo costretti a pensare in qualche modo all'Ucraina perché ha insegnato alla fine della seconda metà del Settecento a Bologna Giorgio D'Aleopoli o chiamato anche Giorgius de Rus perché Rus era il nome come abbiamo imparato in questo periodo che veniva dato all'antica Ucraina il quale venne a Bologna ha laureato in filosofia e medicina e appena laureato ha subito insegnato astronomia e medicina astronomia sotto la guida di Girolamo Manfredi ed è stato anche rettore dell'università degli scolari di arte e medicina l'università degli scolari perché all'epoca fino in secolo ancora il rettore dell'università di Bologna era scelto fra gli studenti eletto dagli studenti e dai professori ma scelto fra gli studenti nel 83 dopo qualche anno che lui passa nel nord d'Italia Milano e Limitrofi e torna a Cracovia dove insegna anche lì astronomia e medicina ed è il rettore dell'università anche lì e si trova a insegnare astronomia a Bologna negli stessi anni a Cracovia negli stessi anni in cui la insegna in cui va come studente Copernico visto che di lapide abbiamo parlato non voglio dimenticarmi di ricordare questa lapide che si trova in una chiesa che si chiama Chiesa della Mascarella che ricorda Bonaventura Cavalieri matematico di grandissima fama come è ben noto è considerato uno dei primi iniziatori del cacone infinitesimale e ha insegnato di gastronomia nello studio fu religioso nel convento dei Gesuati che prima aveva se i primi Gesuati fossero sciolti a sede in questa chiesa dove lui Bonaventura Cavalieri è di grandissima importanza oltre che lui come personaggio per Bologna perché è quello che ha portato a Bologna il metodo della scienza Galileana nonostante fosse un religioso Gesuato però era un copernicano convinto e introdusse molto di quelle che erano gli studi di Galileo e della scuola Galileana da noi dicevo prima che l'università era dispersa per varie parti del centro storico ma nel 1563 Carlo Borromeo legato pontificio decide di raccogliere tutte le lezioni in un unico edificio e costruisce questo enorme edificio che prende il nome di Archiginnasio forse alcuni di voi venendo a Bologna avranno avuto occasione di visitarlo il quale rimane sede dell'università di Bologna fino alla riforma napoleonica del 1803 quando poi si sposta l'università si sposta dove è attualmente questo edificio viene costruito per due motivi così grandioso uno per ospitare tutte le lezioni dell'università degli studi universitari due per impedire che la chiesa di San Petronio qui ne vediamo la parte posteriore della chiesa quindi qui c'è il fianco della chiesa per impedire che la chiesa di San Petronio potesse costruire un transetto diventando così addirittura più grande di San Pietro un altro aspetto socialmente importante di questo edificio è la scelta di avere un'unica porta di entrata e di uscita questo dicevo socialmente importante perché voi sapete che Bologna è sempre stata una città piena di studenti oggi su poco più di 400.000 abitanti gli studenti iscritti sono più di 100.000 nelle varie sedi anche della Romagna eccetera però percentualmente è sempre stata una città studentesca con tutti i problemi che gli studenti hanno sempre e continuano a creare oggi a Bologna perché è chiaro i giovani si vogliono divertire come è giusto che sia ma qualche volta eccedono e quindi c'erano sempre dei problemi con gli studenti allora la scelta fu quella di dire bene una volta che gli studenti sono dentro all'università noi chiudiamo la porta o magari prima facciamo entrare le guardie pontifici e poi chiudiamo la porta così siamo sicuri che non esca nessuno da lì oppure chiudiamo la porta prima che entrino in maniera che non creino o disturbo le elezioni quindi come vedete c'è una scelta sociale e politica ben precisa nella definizione dell'archigennagio che dopo il 1803 con la riforma napoleonica come diceva non è stato più università ma è diventato una biblioteca splendida probabilmente alcuni di voi la conosceranno il palazzo è un palazzo affascinante come vedete da queste poche immagini è completamente ricoperto degli studenti che hanno frequentato frequentato a Bologna fino all'ottocento e la biblioteca conserva libri nel suo archivio storico documenti di enorme valore e soprattutto di enorme valore per quello che riguarda gli studi astronomici ma noi ci soffermiamo un attimo per parlare del teatro anatomico e della prima metà del seicente come vedete ha una forma caratteristica un po' diversa da quella dei teatri anatomici precedenti come per esempio quello di Padova quello di Leiden e altri perché ha questa forma di fare ci sono qui intorno le statue che ricordano i medici famosi e anche alcuni astronomi famosi e vedremo per te che insegnavano sia medicina che astronomia il professore di medicina sedeva in questa cattedra lato del teatro anatomico di fianco a queste due figure che sono però settecentesche di ercrolelli cosiddetti spellati e con un lungo bastone indicava le varie parti del corpo che il suo assistente stava dissezionando per gli studenti questa sala è stata distrutta dai bombardamenti ed è stata ricostruita rimettendo insieme frammento per frammento tutti i piccoli pezzi di legno che si erano ritrovati quello che diceva a noi interessa per il quale qui sono due parole è il soffitto astrologico che è del 1789 vedete c'è questo grande soffitto in legno in cui sono applicate le statue in legno al centro c'è la statue di Apollo il patrono il dio della divinità della medicina e attorno una serie di statue che raffigurano le costellazioni ci sono anche delle scritte tra le quali per esempio questa presa dall'astronomico di Maniglio canterò le cose da conoscere in cielo osservando gli astri e uno si può immaginare dice bene ci sono le costellazioni dello zodiaco no solo 5 sono le costellazioni dello zodiaco non sono neanche 12 qui sono 14 il progetto è un progetto si sa che il progetto astrologico di Uito Montalbani che era professore di astronomia dell'università in quell'epoca che ha scritto diverse opere di carattere astrologico è uno degli ultimi astronomi astrologi dell'università di Bologna perché poi come sappiamo il mondo cambia e l'astrologia finisce per passare sempre più in secondo ordine rispetto agli studi agli studi astronomici ma all'epoca era ancora con un certo vigore allora la domanda è perché le costellazioni in una sala anatomica e perché proprio queste costellazioni alla prima è facile rispondere la risposta la conoscete già tutti ma mi piace ricordare una frase di Girolamo Manfredi quello che era stato l'insegnante Giorgio D'Aleopoli di cui abbiamo parlato prima in un centiloquio che parla di medici di malati alla fine del 400 Girolamo Manfredi astronomo scrive sebbene la medicina in quanta sé sia una scienza perfetta tuttavia il medico nelle sue opere senza l'astrologia non è perfetta vale a dire due parole per spiegare quello che è l'astrologia medica quella che era l'astrologia medica o melottesia o iatromatematica cioè che studiava i regami tra i corpi celesti e il corpo umano ricordo che il più antico programma di studi universitari che abbiamo del 1420 dove c'è una parte dedicata alle lezioni di ad astrologiam il corso di quattro anni in astronomia e astrologia chiamiamolo come vogliamo dove si studiava Euclide si studiava Ptolomeo si studiavano gli astronomi arabi eccetera ma termina con un testo che si chiama Deurina non visa che la traduzione è letterale ed era quello del corso di astronomia propedeutico obbligatoriamente prepedeutico per quelli che studiavano la medicina perché chi faceva medicina doveva conoscere anche gli studi astronomici per potersi dedicare appunto all'astrologia medica allora queste quattordici costellazioni da dove derivano perché queste non altre non lo so non ho una risposta non sono l'unico che si è occupato di questo sono stato probabilmente forse l'ultimo che se ne è occupato altri hanno provato a dare delle risposte che non mi hanno convinto granché niente non vi sto a leggere quelli che sono gli attributi astronomico astrologici dei vari segni raffigurati nel soffitto del teatro anatomico tutti questi sono in qualche modo legati a questioni di tipo medico sanitario o qualcosa del genere ma una scrizione perché questi e altri non ce l'ho lasciatemi solo leggere il mio segno zodiacale se mi permettete gemelli l'energia generata dalla fusione degli opposti proteggono gli studi intellettuali grazie a chi ha scritto questo praticamente alle spalle dell'archiginnasio potremmo entrare se ci venisse consentito è un edificio privato bisogna chiedere l'accesso per osservare una poco conosciuta linea meridiana un palazzo di palazzo Pietramellare Pietramellare è stata insegnata di astronomia all'università di Bologna nel 4500 nel 600 la sua famiglia è diventata un'importante famiglia sanitariale bolognese e un suo discendente Giacomo da Pietramellare ha voluto riabbellire il palazzo quattrocentesco dell'antenato Giacomo e per per fare questo ha voluto fare un monumento a Giacomo Pietramellare ma un monumento che non fosse lo solito busto eccetera e ha chiamato un astronomo Gimignano Montanari tutti conoscete Gimignano Montanari sia come fisico che come astronomo tra i fisici e gli astronomi più sottovaluta più sottoconosciuti del 600 mentre credo che sia uno tra i più importanti Comunque Gimignano Montanari discepolo di Gian Domenico Cassini realizza questa meridiana oramai molto rovinata qui nel palazzo la volta e le pareti sono affrescate con una serie di numerose figure allegoriche con dei simbolismi molto particolari e molto complicati alcuni sono riusciti a decifrare grazie anche all'aiuto di un testo della fine del 500 di Ripa che è un testo che parla appunto dell'iconologia della descrizione delle immagini per poeti, pittori e scultori eccetera eccetera e quindi qui qualche cosa si può dire su queste figure allegoriche questo è il foro della meridiana non più utilizzato perché hanno fatto delle altre costruzioni dietro quindi è chiuso come funzionava questa meridiana era scritto sopra le porte ma non c'è più niente adesso noi lo sappiamo da questo documento che abbiamo nell'archivio del dipartimento di astronomia in cui ci sono scritte le istruzioni per l'utilizzo della meridiana che presenta alcune particolarità oltre ad essere una linea estremamente ben fatta e queste particolarità ci sono spiegate da altri documenti che abbiamo trovato sempre in archivio in particolare da questo e da altri legati a lui con questa figurina ci illustra il cosiddetto quarantaro uno strumento ideato da Gemignano Montanari un strumento mobile sul quale veniva posto una mira ottico più probabilmente un cannocchiale con micrometro perché Montanari è stato tra i primi a mettere un micrometro nei suoi cannocchiali non primo ma tra i primi e usava questo strumento lo sappiamo per osservare il polo nord cioè uno dice faccia una meridiana per col fuoro a sud sì ma lui ha fatto anche delle finestrelle come le chiama esattamente a nord un po' grandi in maniera da poter osservare la stella polare e le stelle intorno alla stella polare misurare le distanze delle stelle dal polo l'altezza sull'orizzonte coordinate celesti eccetera questo strumento scorreva su una specie di rotaie che poi sono state riempite col gesso nel corso del tempo che sono a malapena visibili su una linea completamente completamente rovinata ma abbiamo in archivio tutte le osservazioni che sono state fatte fino ai primi del settecento con questa meridiana perché quella di Cassini si era rovinata parecchio e gli astronomi bolognesi preferivano osservare con questa con questa meridiana allontaniamoci dalla zona che abbiamo visto prima per soffermarci un po' sotto alla torre degli asinelli chi vuole può andare anche sopra io non ci sono mai riuscito ad andare perché soffro di vertigini dopo la prima rampa di scade mi sono dovuto fermare quando ero studente e poi c'è la leggenda che dice che chi si vuole laureare non deve salire sulla torre degli asinelli bene dalla torre degli asinelli come tutti sanno sono state fatte numerose esperienze una che mi piace qui ricordare che è una tra le meno note ma voi la conoscete tutti ed è quella che ricorda il gesuita Riccioli Gian Battista Riccioli nell'Armagesstum Novum del 651 lui si reca in cima alla torre degli asinelli insieme dei suoi assistenti tra cui lo stesso Montanari e studia la caduta dei gravi cioè quello che vuole fare è verificare se la caduta avviene come sosteneva la fisica aristotelica o come sosteneva la nuova fisica galileiana per far questo mette delle tacche in posizioni definite della torre fa cadere pesi di varia composizione di varia dimensione e quindi che potessero dirgli come si comportavano corpi diversi cadendo per un'altezza di ottima di metri la torre è alta a 100 metri ma lui la faceva cadere in questo primo pianerotolo esternamente alla torre poi mette degli omini a misurare a misurare il tempo che ci mettono contando fra i vari fra le varie tacche sulla torre 1,2,3,4,5,6 addirittura siccome in dialetto bolognese che io non conosco perché sono romagnolo 1,2,3,4,5,6 si dice più rapidamente che in italiano gli omini che lui aveva soldato contavano in bolognese e poi si costruisce avendo bisogno di misurare dei tempi molto brevi si costruisce un pendolo che ha un'altezza di 6 cm e fa 6 oscillazioni a secondo quindi come capite sono delle misure estremamente delicate quelle che lui trova è che la velocità non è direttamente proporzionale al peso del corpo ma che si tratta di un moto accelerato cioè Aristotele sbaglia a ragione di Galileo vale a dire lo spazio è proporzionale al tempo al quadrato e pubblica questa tabella con degli studenti anni fa ci siamo fatti una tesi di laurea su alcuni di questi argomenti è stato un attimo da questa tabella ricavarne un grafico come si usa a fare oggi il quale grafico ci dimostra come i punti sperimentali ottenuti da Riccioli ben si adattano con una curva che preveda una G di 9,36 m al secondo quadrato questo è il risultato ottenuto da Riccioli il quale naturalmente poi qui Ivana potrebbe raccontarsi un sacco di cose di più chiaramente è un risultato che come dicevo che dimostra che la fisica aristotelica comincia ad avere non pochi problemi ma lo stesso Riccioli Gesuita già aveva dei problemi per conto suo per altri motivi non si sbilancia più di tanto ricordo nuovamente qui siamo a metà del 600 Newton è di là da venire quindi non possiamo pensare che Riccioli da solo potesse fare un salto di questo tipo ma questo dimostra la qualità dell'esperienza di Riccioli sempre dalla Torre degli Asinelli lo stesso Montanari ci torna varie volte perché fa delle misure con un barometro delle misure di pressione atmosferica è tra i primi forse il primo ma comunque è tra i primi che applica al barometro di Torricelli un indice regolabile e quindi per fare delle misure cambiando l'altezza non ha bisogno di portarsi dietro degli strumenti ingombranti che diventano poi anche poco precisi per cui misura la variazione di pressione atmosferica tra i piedi e la cima della torre estrapola il risultato e ottiene un valore di 7 km per l'altezza dell'atmosfera oggi noi valutiamo la troposfera fra gli 80 e i 20 km poi si reca sul monte Cimone visibile dalla torre degli asinelli la torre si reca sul monte Cimone e da lì valutando la variazione di pressione atmosferica ottiene lo stesso risultato mi piace ricordare anche perché naturalmente in questo libro di cui vi sto parlando cerco di alleggerire queste tematiche astronomiche scientifiche con storielli diciamo così racconti aneddoti e cose di questo tipo ricordo come Gemignano Montanari qualche anno dopo lascia Bologna per andare a Padova e scrive a un amico perché si tratta di riforma romana e come i preti ci pongo le mani addio lettori addio professori dell'università si stava era alle porte una nuova riforma che il legato pontificio avrebbe fatto per l'università e quindi se ne va a Padova dove peraltro gli danno uno stipendio molto più alto e fanno per lui appositamente una catena di fisica meteore e a Padova pubblica il famoso libro l'astrologia convinta di falso per svelare quella burla che aveva fatto a Bologna insieme ad alcuni suoi amici pubblicando per alcuni anni un armanacco astrologico completamente in pratica tirato a sorte che aveva chiamato il frugnolo degli influssi del gran cacciatore di Lago Scuro e che aveva avuto un gran successo fra il pubblico nonostante come diceva fosse tirato a sorte e lui svela tutto in questo pample anti-astrologico sempre nella Torre degli Asinelli va ricordato un altro esperimento molto importante anche questo anche se anche questo non conosciutissimo dall'alto della Torre Giovanni Battista Guglielmini qui siamo alla fine del Settecento fornisce la prima verifica sperimentale della rotazione della Terra torna proprio a Asi e questo 60 anni prima del pendolo di Foucault la cosa curiosa che mi è capitata è che non ho trovato in nessun libro in nessuna pubblicazione da nessuna parte che non siano dei saggi scientifici in senso stretto figure diverse da quelle dell'omino che lancia dei sassi butta dei sassi lontano dalla Torre no i sassi il buon Guglielmino anzi delle palle di piombo le faceva cadere al centro della Torre perché lui doveva vedere ve lo stia a dire quanto deviavano dalla verticale quanto deviavano verso est dalla verticale e quindi doveva prendere la verticale con un filo a piombo particolarissimo e una precisione di più o meno un millimetro se non di meno tolto il filo a piombo doveva far cadere le palle di piombo quello che lui ottiene con alcune misure dalla Torre degli Asinelli è uno spostamento verso est di 18 mm la teoria prevedeva prevede uno spostamento di 11 mm quindi un buon risultato risultato ancora migliore lui lo ottiene all'interno della Torre della Specola lui era insegnante di astronomia e direttore dell'osservatorio astronomico quindi risiedeva lì dentro per cui gli era molto più comodo fare gli esperimenti la Torre è più solida anche se più bassa ha meno spifferi dal vento perché le finestre sono tutte chiuse e quindi utilizzando la scala a chiocciola per un'altezza molto più breve ma come dicevo più sicura degli strumenti di sgancio da lui li ha realizzati appositamente fa cadere queste palle di piombo e ottiene una deviazione verso est di 4 mm e mezzo rispetto ai 3 mm e 9 cioè pensate 4 e mezzo cioè deve definire la verticale e far cadere tutte queste palline di piombo questa è anche qui in un'attesa di laurea con gli studenti con uno studente abbiamo fatto alcuni giochi su queste cose qui quello che si trova questi sono i risultati di Guglielmini che fu criticato per queste sue esperienze non vennero bene accolte primo perché nessuno era più in grado di rifarle infatti sono di una delicatezza erano per l'epoca di una delicatezza estrema secondo perché come vedete i pallini sono spostati verso est ma anche verso sud e questo non si giustificava noi oggi possiamo dire che Guglielmini con questi esperimenti è stato il primo a verificare l'esistenza di quella che poi ha preso il nome di Forza di Corioli perché non si giustificava ancora il fatto che cadendo spiraleggiassero e invece questo che l'esperimento di Guglielmini aveva dimostrato esattamente il fatto che cadendo spiraleggiavano Adele tu mi puoi fermare quando vuoi perché non c'è una conclusione a sorpresa di questa storia io continuo a raccontare qualche storiella quando senti ma no allora io lo trovo affascinante come itinerario quindi ti dico la verità vai avanti se tu ti sono d'accordo con me vai avanti ancora un po' perché veramente è un piacere ascoltarmi non mi dire vai avanti perché posso perché potrei non fermarmi per qualche ora va bene vai avanti un altro po' dai volentieri io veramente trattavo anche sentirti parlare di tutti questi esperimenti io sono ignorantissima ma te non sapevo proprio di questi esperimenti dalla torre degli Asinelli molto belli ti devo dire la verità veramente insomma prego allora grazie io vado avanti se poi quando ho finito mi accorgo che non c'era più nessuno vi ringrazio da adesso bene allora come dicevo ho detto prima con la riforma napoleonica l'università la sede dell'università viene tolta dall'archiginnasio e viene spostata dove è attualmente via Zamboni in questo edificio che era l'edificio palazzo della famiglia Poggi infatti ancora oggi si chiama Palazzo Poggi acquistato dal senato bolognese all'inizio del settecento per dare sede all'istituto dell'accademia delle scienze anzi l'istituto dell'accademia delle scienze delle belle arti poi l'accademia di belle arti sempre con successivamente se ne è andata in via che si chiama appunto via delle belle arti dove oggi c'è la pinacoteca chi non conosce la pinacoteca di Bologna ci venga perché c'ha delle cose veramente splendide bene all'inizio del settecento il generale Luigi Ferdinando Marsilli di cui non sto a dirmi niente ma c'è solo una parola considerato il fondatore della moderna oceanografia prigioniero dei turchi liberato con un pesante riscatto dopo la partecipata alla difesa di Vienna dai turchi quando torna in Italia torna a Bologna ha capito che per sconfiggere i turchi la cosa principale è combatterli sul piano potremmo dire sul piano culturale che per lui voleva dire sul piano tecnologico cioè la tecnica è quella che può combattere quelle che erano le altre forze invece dell'impero turco ottomano e per questo lui fonda un'accademia l'accademia delle scienze sulle basi di una precedente accademia fondata da Eustachio Manfredi e da un gruppo di amici e a un certo punto per motivi familiari lui decide di donare tutte le sue raccolte scientifiche libri coccodrilli impagliati strumenti di astronomia raccolte strane eccetera al comune di Bologna purché vi trovi una sede degna e il comune acquista questo edificio e purché vi sia costruita una torre astronomica e come scrive Manfredi fosse retta una specola per fornire quei frutti non disprezzabili che ritrae dall'astronomia la civil società in sostanza la specola non è fatta perché gli astronomi vadano lì a guardare il cielo o i nobili bolognesi portino il loro signore dice vieni che ti faccia vedere le stelle eccetera no è fatta per gli stessi motivi per cui qualche decennio prima era assorto l'osservatorio reale di Parigi e l'osservatorio di Greenwich cioè scopi pratici frutti per l'astronomia per la società civile grazie all'astronomia e quali sono questi frutti? cartografia geografia conoscenza del territorio determinazione della longitudine in mare che era il punto primo dell'atto di fondazione dell'osservatorio di Parigi e dell'osservatorio di Greenwich cioè era un'astronomia fatta per scopi eminentemente se non essenzialmente pratici e questo è il motivo che giustifica la costruzione di una torre così imponente su un palazzo quattrocentesco preesistente una torre completamente dedicata all'astronomia e fino al 1999 in questa torre qui vedete nella sezione ci stava il dipartimento di astronomia e l'osservatorio astronomico e il corso di laurea cioè capite che era un qualche cosa di estremamente fitto poi l'università ci ha spostato altrove poi ci ha rispostato altrove comunque la torre è stata da allora completamente museizzata e lasciatemi dire io me ne sono occupato per una più di vent'anni con venticinque anni ristrutturata completamente una quindicina di anni fa l'allestimento rifatte tutte le parti interne cercato di riposizionare gli strumenti originali nelle posizioni in cui gli astronomi osservavano per quanto possibile eccetera e anche questo lasciatemelo dire Jean Clerc il decano degli storici dell'arte francese nel 2017 sul sole 24 ore ha scritto in Italia considera il museo della specola di Firenze e quello dell'università di Bologna molto più interessanti e importanti del Buburg questa è una soddisfazione che io mi porto dietro poche parole sul museo della specola chi non l'ha visto invito ad andarla a visitare perché ha delle caratteristiche devo dire veramente uniche come ha capito appunto anche lo stesso Jean Clerc perché come dicevo prima si ripercorre la storia dell'astronomia bolognese all'interno dei locali in cui questa storia è avvenuta e con gli strumenti che gli astronomi bolognesi qui hanno utilizzato per esempio al primo piano della torre in una stanza laterale che è la stanza della sala meridiana dove c'è questa bella meridiana filare con analemma fatta fare da Eustacchio e Manfredi e poi rimodernata da Ercolelli successivamente noi abbiamo degli strumenti due quadrati mobili e un grande semicircolo murale di Lusvene dei primissimi anni del Settecento un orologio inglese di Queer da questa stanza con questi strumenti Eustacchio Manfredi ha fornito nel 1730 la prima conferma osservativa della teoria dell'aberrazione di Bradley Bradley l'aveva esposto la sua teoria sull'aberrazione dell'annua delle stelle fisse nel 1729 utilizzando 6-7 stelle Manfredi con una trentina di stelle che osservava già da parecchio tempo la conferma peraltro il nome aberrazione deriva dal titolo del libro di Manfredi che parla di anni sinerantium stellarum aberrazionico sugli errori perché si osservavano dei movimenti nelle stelle che non erano la parallasse cercata potremmo dire dai tempi di Aristarco ma era qualche cosa che non si giustificava e Bradley è il primo a capire di che cosa si tratta aberrazione della luce delle stelle dall'altra parte della sala meridiana ci sono altri strumenti che sono strumenti inglesi degli anni trenta del settecento c'è sempre in questo piano una sala in cui è stata ricostruita lo studio di Horn d'Arturo di Horn d'Arturo ve ne ho parlato in uno dei precedenti congressi della SISFA è quello che ha tra tantissime altre cose è quello che ha ideato per primo la possibilità di utilizzare dei tasselli per fare uno specchio più grande e qui è esposto nello stesso luogo in cui lui l'ha utilizzato lo specchio a tasselli da un metro e ottanta del 1952 e quelli che sono sopravvissuti del prototipo che lui aveva fatto da un metro del 1932 faccio una breve interruzione ma mi voglio cavare questa soddisfazione se me lo consentite questa è la prima immagine che abbiamo avuto del James Webb Space Telescope che tutti conoscete una volta che sono stati allineati tutti i tasselli tutti gli specchi in beriglio ricoperti da una lamina dorata dei tasselli esagonali non a caso del grande specchio del James Webb questa è la prima immagine di una stella che ci ha fornito mentre queste sono due delle migliori immagini che aveva ripreso negli anni 50 Orn d'Arturo col suo telescopio ora diciamo è facile dire è utile fare questo confronto no è utile fare questo confronto secondo me perché qui noi stiamo confrontando due fotografie due immagini fortemente ingrandite da due lastre fotografiche Ferrani a cappelli blu esposte per sei minuti all'inizio degli anni 50 e riprese con uno specchio costruito in casa perché la levigazione per dare la giusta curvatura a tutti gli specchi l'aveva fatta Orn con i suoi tecnici quindi una strumentazione costruita in casa con una spesa praticamente risibile fatta da un solo uomo possiamo dire qui ci troviamo di fronte invece a una struttura gigantesca come oggi è richiesto con costi enormi e una tecnologia assolutamente non confrontabile visto che da terra i clip clip si rimettono a posto in frazioni di secondo quello che è l'allineamento degli specchi abbiamo sentito anche qualche giorno fa che un meteorito aveva colpito uno specchio ma che allora lo sistemavano eccetera sotto ad ogni specchio di Orn ci sono tre viti e nella stanza qui sotto ci sono ci sono i rispettivi pomuli per poter muovere le tre viti e per poter allineare quindi tutti i 61 tasselli per un totale di 183 viti è quello che oggi si chiama ottica attiva è quello con cui oggi sono fatti i grandi telescopi bene rimaniamo nella nostra torre nelle nostre storie bolognesi in un piano come vedete più basso della torre c'era l'abitazione dell'astronomo che abitava lì con due sorelle che facevano parte di un cenacolo femminile bolognese si dedicavano a scrivere qualcosa e a tradurre in bolognese alcune opere in italiano o in altre lingue dialetti traducono in bolognese le fiave di Bertoldo Bertoldino e Cacacenno e le fiave napoletane dello punto dell'Icunti anche qualcos'altro che oggi diciamo ci fa sorridere ma in realtà anche questa è una scelta sociale ben precisa perché quello che volevano erano rendere disponibili a un pubblico il cui l'italiano era se andava bene una seconda lingua perché parlavano solamente il dialetto bolognese rendere disponibili a un pubblico il più vasto possibile ovviamente in grado di leggere quindi già limitato comunque quelle che erano delle opere in altre lingue cioè in italiano per esempio in napoletana sempre da documenti dell'archivio di astronomia di Bologna scrive Manfredi nel manoscritto dell'Efemeride Bolognese cominciai l'Efemeride nel 1712 con l'aiuto delle mie sorelle Maddalena e Teresa la tavola delle longitudini e latitudini era stata calcolata da mia sorella Maddalena cioè queste non solo traducevano dal napoletano in bolognese ma a quanto scrive Manfredi lo aiutavano a fare i conti e vi assicuro non sono conti facili quelli che venivano fatti per calcolare l'Efemeride erano conti lunghi complessi ripetitivi eccetera va detto a disonore dell'Eustachio e Manfredi che nel libro a stampa queste frasi non ci sono cioè le sorelle l'hanno aiutato l'ha scritta nel manoscritto ma poi nel libro a stampa non ci sono passiamo al piano di sopra c'è la sala dei globi con globi che vanno a quelle di Blau Senex Valk Sferi Armillari e questi bellissimi dieci dipinti su cartoncino azzurro della fine del Seicento di oggetti celesti fatti da Maria Clara Heimert la figlia dell'astronomo di Norimberga amico del generale Marsili a quali gli aveva regalati c'è poi la stanza delle carte cinesi con una rara copia delle 6-7 che esistono al mondo carta geografica di Matteo Ricci fatta a Pechino nel 1602 e un'altrettanto rara la carta celeste fatta da Schalvonbella a Pechino nel 1634 più alcuni strumenti di cartografia topografia c'è una stanza degli astronavi con astronavi portolani del Cinquecento strumenti da navigazione cronometro da marina astronavi arabi e astronavi fiammingo del Cinquecento si va nella grande sala della torretta dove ci sono strumenti usati nel corso del tempo dagli astronomi spiccano questi telescopi aerei fatti per alloggiare le lenti e gli oculari di Campani che ancora conserviamo della fine del Seicento più come vedete altri strumenti Dolland Rijkenbach Hertel eccetera infine si sale sulla terrazza da dove non si riesce poi mai a riportare giù la gente perché dalla terrazza c'è uno splendido panorama di Bologna con le colline la vista quando è possibile verso il Cimonte e Cimone come dicevo e così via quindi qui per chi va a visitare la specola qui si conclude la visita qui c'è un cupolino dei primi del Novecento che alloggia una tavola equatoriale cioè un telescopio in montatura equatoriale su cui sono stati montati due telescopi completamente diversi ma con la stessa lunghezza focale un Watson e Corridi del 21 e uno Zeiss del 66 adesso vengono usati uno con un filtro solare per osservazioni solari e un altro per osservazioni notturne ma per visite al pubblico quando si possono quando si possono fare naturalmente si può parlo anche delle visite che si possono fare negli intorni di Bologna delle visite astronomiche in alcune località per esempio alcuni osservatori di astrofili che hanno anche una certa importanza nel mondo degli astrofili con l'Associazione Astrofili Bolonesi e altre ma soprattutto l'Osservatorio di Loiano dove c'è la cupola del telescopio Zeiss del 1936 e la cupola del telescopio francese Reosc dedicato intitolato a Cassini del 1975 alla quale ho contribuito da giovane neolaureato e poi naturalmente oltre che Loiano si può andare anche a Medicina per vedere i radiotelescopi che qui mi piace ricordare con questa bella immagine di Monica Vitti in deserto rosso e alle spalle il telescopio di medicina in costruzione perché lì erano state girate queste scene e poi di tanto altro ancora potrei potrei parlarvi perché ci sono numerosissime volte affrescate con cicli stagionali cicli zodiacali danze delle ore il tempo alcuni orologi spettacolari qualche altra linea meridiana le tombe alle tombe dei lettori di astronomia quello che è considerato quello che era non considerato era il primo anemoscopio fatto da Ignazio Danti questa è una fotografia del 1936 oggi praticamente illegibile ma questo è il retro del convento di San Domenico dove Ignazio Danti aveva fatto questo grande anemoscopio poi lo rifarà nella Torre dei Venti a Roma insomma se io mi fermo mi scuso se sono stato troppo lungo ma vi auguro buona passeggiata per Bologna grazie grazie a te Fabrizio veramente appunto una bellissima passeggiata e come vedi e credo abbiamo fatto bene non ti potevamo fermare prima del museo della specola cioè quindi veramente niente insomma un itinerario bellissimo e io ti ripeto appena avrò la possibilità di venire a Bologna di nuovo perché ci manco veramente da tanti tanti anni sicuramente non mancherò di visitarlo ecco perché avevo sentito parlare però chiaramente vederlo anche così avere idea di tutto questo insomma era qualcosa che di uno insomma ecco questo è allora intanto ti leggo c'è in chat azzurra che dice bellissima presentazione aspetta te lo leggo meglio perché grazie professor Bonoli stupenda presentazione grazie questo ovviamente lo pensiamo tutti quindi intanto che interventi domande curiosità io non conoscevo gli esperimenti dalla torre degli asinelli il fatto che Riccioli avesse fatto quella verifica diciamo della legge dei gravi vabbè chiaramente non ne so niente ma veramente molto interessanti anche tutte quelle appunto tutti quegli esperimenti Marisa prego c'è Marisa che vuole intervenire prego Marisa Fabrizio intanto molte grazie e complimenti mi chiedevo se non si potesse organizzare non so la visita di un giorno almeno per un gruppo di volenterosi appassionati perché io ho il suo libro ho letto ma ti ho ascoltato con grande piacere quindi esiste anche come dire il calore della presentazione diretta quindi ci farebbe a me farebbe molto piacere di riuscire a visitare la città allora ti ringrazio ti dirò l'anno scorso abbiamo fatto una cosa del genere in occasione della giornata dei ricercatori abbiamo i ragazzi giovani ricercatori che organizzano questa giornata si sono disperatamente dati da fare per organizzare qualcosa in un giro che durasse un paio di ore perché portare poi la gente in giro per un tempo più lunghi poi comincia anche a stancarsi perché non sono poi tutti sempre Bologna città ma non sono poi sempre così tutti un attaccato all'altro ma ti dirò che è stata una faticacia improba non per me che devo raccontare delle cose che come detto ormai le conosco non mi creo problemi ma per l'organizzazione perché sono dei posti dove ci sono numeri limitati di accessi per questioni di spazi per esempio nella torre della specola più di 15 per volta non ci si va nella sala anatomica dell'archigennasio più di 10 per volta non ci si andava non so adesso se è cambiato nella basilica di San Petronio devi avere dei permessi speciali per fortuna io conosco bene il primicerio e sono riuscito ad averli però quest'anno è cambiato non so se ce li dà cioè capisci che è una cosa che di cui l'organizzazione è veramente stancante tant'è che l'anno scorso le ragazze voi siete state bravissime a fare questa cosa quest'anno hanno detto che la vogliono rifare sempre per il giorno dei ricercatori a settembre ho detto provateci io ci sono sta di fatto che fare tutta questa fatica per un numero di persone che è 10-15 al massimo insomma non so se ne valga la pena ti ringrazio capisco che l'idea è bella ma non si tratta di andare in giro per la città perché possiamo arrivare sotto alle due torri e vi racconto quello che vi ho raccontato qui oggi se qualcuno può andare su va su ma non c'è niente da vedere i posti sono posti privati per esempio la bellissima meridiana di Montanari è in un posto privato in un edificio privato a quale io per caso sono stato coinvolto qualche anno fa perché lì aveva sede l'associazione dei commercialisti di Bologna che ha voluto fare uno di quei bei libri rilegatissimi coloratissimi eccetera sul palazzo perché è un certo pregio tutto il palazzo pietramellara e a me hanno chiesto di fare questa cosa sulla meridiana se no sapevo che c'era ma non l'avevo mai vista neanch'io ho provato ad andarci qualche mese fa con un amico e racchiusa non mi ci hanno fatto entrare nonostante ci abbia scritto un libro sopra per dire quindi cioè sì insomma l'idea bisogna che ci pensi non posso garantire niente perché è complicato comunque se capitasse l'occasione io mi iscrivo grazie tante complimenti ma infatti anche avere la possibilità appunto di visitare questi posti appunto che non si visitano abitualmente insomma però si può immaginare la difficoltà Salvatore prego allora grazie Fabrizio per questa cosa mi hai dato un bel po' di informazioni interessanti la prima interessante che ho scoperto è che meno male che sono andato sulla torre degli Asinelli dopo laureato e non prima laureato non la sapevo questa storia però mi è andata bene comunque no a parte le battute dice no volevo fare una domanda tecnica sul sull'esperimento di Guglielmini anzi ti posso dare pure una notizia non mi ricordo su po' le libro ma credo qualcuno della Zanichelli c'era l'immagine ovviamente quasi a fumetto corretta non quella che si lancia la meno male qualcuno era su un libro di chimica e non di fisica se mi ricordo quindi vabbè diciamo ok no però la domanda tecnica invece non ha senti ma avevi detto quello raffinato era 4,5 mm su una previsione di 3,1 ma diciamo una stima più o meno dallo scatterplot insomma da quella cosa che avevi dimostrato dell'errore quant'è diciamo quanto doveva essere inferiore al millimetro sicuramente sì deve essere dentro un millimetro è una delle cose più erano diciamo era estremamente delicato definire la verticale col filo a piombo perché tu devi fare un filo di un'ottantina di metri per la torre degli asinelli di una quarantina di metri per la torre della specola un filo che vada giù ti faccia il piombo non si attorcigli eccetera infatti era un filo d'oro sottilissimo quello che lui aveva fatto snervato eccetera quindi devi fare la verticale poi dalla stessa posizione in cui poi devi togliere il filo e da quell'esatta posizione devi far cadere delle palline di piombo che erano circa di un paio di centimetri un centimetro e mezzo di diametro e lui ebbe molti problemi perché naturalmente le palline cadevano con degli effetti c'è tante che prese una bacinella di mercurio e appoggiava una pallina alla volta sulla bacinella di mercurio per verificare che una volta appoggiata la pallina non cascasse di qua o di là perché il baricentro geometrico non coincideva col baricentro della massa quindi si faceva fare delle palline delle palline apposta nell'attore degli osinelli che come dicevo non ha fine cioè ha delle finestre non vetrate quindi aperte lui faceva gli esperimenti di notte perché la mattina c'era il mercato nella piazza di sotto quindi passavano i carri girava da tutte le parti metteva un omino davanti a ogni finestra con una fiaccola che gli diceva se c'erano correnti d'aria o no voi capite tutte queste difficoltà gli era venuta meno precisa sulla torre cioè era più disperso il risultato sulla torre degli asinelli dove aveva fatto meno misure per i motivi che dicevo lui abitava nella torre della specola quindi lo poteva fare quando gli pareva gli era venuto più disperso ma quando abbiamo fatto dicevo un'attesa di laurea oramai sono più di vent'anni fa con uno studente su questo argomento per caso mi è capitato fra le mani in casa di mia suocera che aveva uno zio ingegnere un opuscolo di quella letteratura grigia come si usa a chiamare cioè un opuscolo di un ingegnere bolognese che a seguito del terremoto dei primi del novecento a Bologna era stato incaricato di fare delle verifiche di stabilità di alcuni edifici tra cui la torre degli asinelli e quindi lui aveva messo un filo a piombo dentro la torre degli asinelli l'aveva mantenuto dentro la torre e nel corso dell'anno andava a vedere come questo filo a piombo si spostava per vedere se la torre aveva delle oscillazioni o meno naturalmente una torre così alta ha delle flessioni dovute alle variazioni termiche sulle sue facciate cioè quando c'è il sole da una parte e non dall'altra poi il sole cambia e quindi la torre si muove durante la giornata noi sapevamo che alcune prove Guglielmini le aveva fatte d'estate abbiamo preso i risultati c'è una bella grafico in questa pubblicazione dove c'erano tutti queste figure irregolari dei fili a piombo che lui aveva fatto nei vari giorni in cui faceva questi esperimenti abbiamo preso un giorno d'estate diciamo tanta Bologna d'estate fanno caldo da matti comunque tutti i giorni l'attore si muoverà se sarà mossa nello stesso modo abbiamo corretto i risultati di Guglielmini per quelle per quelle variazioni termiche della torre e i risultati sono andati a posto cioè c'aveva la stessa precisione che aveva di là queste naturalmente sono quelle cose che lui non sapeva non sapeva non ci ha pensato non poteva fare non cioè era già quando gli cascavano perché all'inizio quando lui incomincia a far cadere le palle dalla cima della torre deve far allargare il buco dei pianerottoli che c'è in ogni piano perché le palle gli cadevano da tutte le parti fa fare un meccanismo di sgancio perché prima ovviamente a tagliarle quando tagli la pallina vada ve gli pare dopodiché prova a bruciarle col fuoco ma si slabbra e quindi cade male prova con delle gocce d'acido anche lì non va bene per cui fa un meccanismo di sgancio non so se avete fatto caso la figurina che avevo messo di fianco la torre un meccanismo di sgancio con una specie di molla che non c'è più ma io ho fatto ricostruire da un ingegnere appassionato di queste cose di Modena quando abbiamo ristrutturato la torre utilizzando gli stessi disegni di Guglielmini per cui adesso chi sale in cima alla torre vede questo fatto con materiali moderni ma esattamente lo stesso meccanismo di sgancio che aveva fatto il buon il buon Guglielmini quindi sì hanno provato in tanti a rifarlo dopo Guglielmini ci sono riusciti solamente negli anni 20 del 900 in America non mi ricordo dove ma su dimensioni più basse ma con ovviamente tecniche molto più moderne insomma cioè di un secolo e mezzo più tardi ma all'epoca non c'è riuscito nessuno a farlo come lui e per quello che era criticato dicevano tu hai fregato tutti sapevano che la terra girava su se stessa oramai cioè non era quello il problema però tanti avevano provato a dimostrarlo Mersenna sparandosi cannoni su in testa e poi gli ricadevano da tutte le parti e altri lo stesso Ricciole aveva pensato a fare la prova del di Guglielmini senza farla insomma è già molto che è riuscito a fare quello che Galileo ha pensato dalla Torre di Pisa e che molto probabilmente non ha mai potuto fare perché anche quella è di una delicatezza incredibile e quindi tu ritieni addirittura che si poteva vedere l'effetto diciamo della forza di Coriolis c'è un effetto cioè avete visto il graffio è esattamente una forza esattamente una forza di Coriolis e Coriolis è della metà dell'ottocento di quegli anni ma cioè il fatto che cadendo da quell'altezza spiraleggiavano era una cosa che ancora in fisica non c'era non c'era grazie particolare veramente comunque io vedo due mani avevo visto una è di Ivana vero? e l'altra di Roberto prego allora Ivana e poi Roberto quante cose ho detto sbagliate su Riccioli splendida la tua relazione grazie mi sentite perché non riesco a sì mi sentite ok si sentiamo bene perfetto ringrazio tantissimo Fabrizio perché è stato un percorso interessantissimo ha richiamato tanti personaggi che conosco in pratica ha arricchito tantissimo le informazioni che avevo il Montanaro il Manfred il Marsili insomma tutti questi bolognesi che tanto hanno contribuito all'astronomia volevo solo chiedere a Fabrizio mi sembra che quella tesi di laurea a cui avevi fatto cenno sia stata poi oggetto di un articolo anche sul giornale di astronomia o ricordo male quella su Riccioli quella su Riccioli ecco invece per l'altra su Guglielmini no non solo ma disperatamente non ho più non ho più il materiale perché risale ad epoca in cui gli studenti andavano in copisteria a farsi la tesi quindi non c'ho neanche speravo di avere uno dei vecchi floppy con il testo magari recuperabile in qualche modo ma cioè la tesi c'è nella biblioteca del Dipartimento di Astronomia ho capito le tesi di laurea ci sono e dovrebbe c'erano fino a un certo punto poi adesso sono tutte dematerializzate come si usa dire cioè non esistono più perché traducendo in altre parole la dematerializzazione vuol dire che non ci sono più e infine per quello che riguarda la proposta di Marisa riguardo alle passeggiate semplicemente volevo fare riferimento a un'esperienza che ho visto a Parigi hanno realizzato nel quinto arrondissement che poi è quello che ospitava ospitato il laboratorio di Marie Curie dove è collocata l'Ecole Normale quindi diciamo l'Ecole Normale degli scientifici della prima metà del Novecento soprattutto c'è l'Ecole des Physiques e hanno costituito un'associazione credo con il sostegno anche della diciamo strutture locali in parte forse anche il municipio del quinto arrondissement e hanno effettivamente organizzano tutti gli anni a giugno un certo numero di percorsi scientifici in giro per la città ma in genere limitatamente a quest'area appunto del quinto che durano non più di due ore certo ci vuole una buona organizzazione e io credo anche un sostegno da parte degli enti locali perché diventa molto interessante ma non possiamo far tutto con le nostre forze quindi forse andrebbe esplorato questa possibilità di trovare gli enti locali oppure altri enti diciamo sul territorio un minimo di sostegno perché mi sembra una bellissima idea grazie ancora per questa bella passata grazie grazie Ivana Roberto prego sì intanto ringrazio anch'io il buon Fabrizio per questa bella scursus di astronomica io ho letto tra l'altro il tuo libro che è uscito a gennaio febbraio di quest'anno l'anno scorso l'anno scorso comunque io i primi anni i primi mesi di quest'anno però ti sembra di averlo letto ieri vero? mi fa piacere e quello che effettivamente mi aveva colpito era questo diciamo riferimento a questo ingegnere modenetiche che è appunto colui che come tu dici ha fatto questo studio di questi movimenti micro movimenti del baricentro della torre delle asinelli che ovviamente poi dopo hanno inficiato diciamo sul risultato finale quello che rimane è che io immaginavo che diciamo gli errori mi pare tu hai parlato di 18 centimetri no? di deviazione millimini scusa millimini certo che derivassero da questi movimenti di aria perché la torre è tutta bucata no? fondamentalmente immaginavo che questo questo elemento non lo conoscevo cioè e soprattutto quello che hai detto pochi minuti fa cioè il fatto che mettendo le correzioni giuste legate a questo studio di questo ingegnere modenese i conti tornerebbero intorno ai 3,9 o sbaglio dei millimetri no questo l'abbiamo fatto per l'attore degli asinelli che era sui 14 sui 14 millimetri cioè con questa correzione diciamo a quanto si arriva? non me lo ricordo il numero adesso non te lo so dire perché non me lo ricordo sono passati tanti anni quello che sono sicuro perché questo me lo ricordo bene è che dei dati che erano più dispersi finiscono per essere più racconti ma direi che il numero che vi ho dato che l'ho pescato da qualche appunto che avevo sia quello dei dati corretti però questo diciamo secondo me è un punto storicamente molto rilevante per cui diciamo ti inviterei a pubblicarlo perché non è non è tanto cioè è notevole la cosa sostanzialmente l'altra cosa che tu dici sostanzialmente corretta è quella che è stato il primo esperimento diciamo atteso di mostrare la situazione di retta in realtà come sai già nel 1680 Huck su spinta di Newton aveva fatto tutta una serie di esperimenti di questo tipo tra l'altro in quegli esperimenti di Huck si parla anche per la prima volta di deviazione a sud deviazione a sud che si ritrova anche in Guglielmini ora secondo me è un'ipotesi una mia idea secondo me Guglielmini è stato diciamo il primo scientificamente a mettere in evidenza questo dato di deviazione a sud e nessuno ci capiva nulla effettivamente e questo ha portato l'esperienza di Guglielmini da una parte ha una replica di una serie di esperienze italiane molto importanti Torino Novara e soprattutto quella di Modena scusa di Bergamo Contadini dall'altra però ha stimolato in Francia da una parte gli studi matematici di Laplace che ha diciamo matematizzato il fenomeno e quelli in Germania di Gauss pare che siano arrivati contemporaneamente senza conoscere ognuno la ricerca dell'altro alla matematizzazione del fenomeno e soprattutto a dimostrare quella famosa deviazione verso sud ora la cosa interessante è che secondo me più che Gauss probabilmente Laplace ha beneficiato delle esperienze di Guglielmini per questo discorso del sud secondo me perché no no questo non io non li ho approfonditi tutti questi argomenti alcuni sì Pocassini Domenico Meglio Donavale altri insomma ma non tutti alcuni a livello in cui vi ho raccontato adesso per esempio la Borgato su Guglielmini ha fatto un sacco di lavori quindi può darsi che anche lei abbia delle informazioni molto più accurate perché ha scritto un libro con Oschi però Guglielmini sicuramente è stato il primo in assoluto diciamo a evidenziare questa anomalia dello spostamento verso sud che era assolutamente incomprensibile sì ritenendola gli altri dichiaratamente lui forse non dichiaratamente ma ritenendola un'imperfezione del suo esperimento perché tutti si aspettano che casca a est invece casca a sud-est e non sai perché se non te lo spieghi diceva mi sono sbagliato ho capito però la cosa interessante è che secondo me sullo stimolo di questi studi di Guglielmini e soprattutto di tutti i successivi Padini in particolare poi Laplace e Gauss dimostrano quell'oppostamento verso sud in cui c'è sia una componente della forza centrifuga e sia una parte anche della forza di Guglielmini che effettivamente non era ancora stata studiata bene perché è di 37-38 lo studio sulle forze di Guglielmini sì ma sai io credo che il buon Guglielmini sia stato oscurato diciamo così per usare dei termini moderni dai social media dell'epoca dal pendolo di Foucault perché quando Foucault ha fatto il suo pendolo andava lì la gente e gli diceva aspetta un po' che ti faccio vedere che gira e gli faceva vedere che gira nessuno capiva perché il pendolo faceva questo giro perché non era facile neanche a lui spiegarlo era un'esperienza delicatissima al pubblico certo però era qualche cosa che avveniva davanti agli occhi di tutti qualcosa succede Guglielmini nel buio dell'attore degli asinelli e dell'attore della specula ha fatto sta cosa di una delicatezza mostruosa che nessuno era capace di rifare e quindi chi non gli voleva bene mettiamola così diceva vedi si è sbagliato va addirittura pure a sud poi Guglielmini ha avuto dei problemi anche diciamo personali perché lui si è trovato a gestire l'osservatorio e l'università perché è stato anche rettore per breve tempo nel periodo in cui siamo arrivo delle truppe napoleoniche la restaurazione gli austriaci quando il papa lo nomina direttore gli austriaci dicono no lui no perché perché faceva il tifo per quegli altri quindi aveva anche tutte queste problematiche per cui non se ne poteva star tranquillo a far cadere le palle dalla cima delle torre ma doveva fare occuparsi anche di qualche altra cosa più importante per chi ci viveva insomma un'altra cosa interessante questo è un po' più tecnico capire il ruolo di Canterzani che è stato il maestro di Guglielbini che è un matematico bolognese su questo esperimento perché sembra che insomma gli abbia dato una grossa mano anche dal punto di vista matematico perché Guglielbini non era pochissimo dal punto di vista matematico sì e che del Canterzani non si hanno una grande non si hanno molte notizie sul Canterzani cioè ha pubblicato qualche cosa ma non fa parte di quella popolazione di studiosi bolognesi astronomi poi soprattutto ma anche altri che facevano magari delle cose anche interessanti ma poi gli rimanevano nel cassetto o gli rimanevano in qualche foglio volante distribuito agli amici durante la partita del poker il sabato sera ecco non avevano cioè le poche cose che facevano non avevano una diffusione così così ampia e poi siamo stati uccisi anche non ce lo dimentichiamo mai noi siamo stati uccisi al novecento dagli storici inglesi e francesi certo quindi questo vuol dire che tutti gli italiani bene o male qualunque cosa facessero ma anche Uccle l'aveva fatto cioè perché perché la storia poi alla fine l'hanno fatta loro noi però ecco Guglielmini forse è stato diciamo entrato più che altro di rimbalzo grazie al libro su Tadini di come si chiama quella ragazza nostra che è stata anche dell'attività adesso che si è ripresa adesso ma io sto parlando poi Pasquale queste cose le diciamo molto meglio di me della storia della storia per dire cioè noi lo sappiamo sappiamo anche come è stato un po' maltrattato il buon Galileo da svariati personaggi storici semplicemente perché ha messo di fronte a qualche ferro rovente ha detto mi arrendo allora avrei voluto vedere anche i loro come si sarebbero comportati insomma e quindi molte persone hanno finito per andare cioè lo stesso Geminiano Montanari cioè chi si avvicina a Montanari capisce che era una forza della natura sia in fisica che in astronomia anche in altre discipline assieme a Cassini hanno fatto il primo trappianto di sangue d'animale d'animale utilizzando un tubicino insomma grazie grazie dimmi Pasquale cosa ho detto se ho detto qualcosa di poco grazie Roberto chi altro vuole aggiungere qualcosa era Pasquale ma non lo sentiamo Pasquale no 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 perché perché mi avevo detto qualcosa sugli storici del novecento così che hanno fatto una storiografia molto molto francese o inglese ecco così no ma non vorrei intervenire su questo ho trovato bellissima la relazione di Fabrizio è è un piacere così andare a Bologna e vedere questi queste questi soggetti che lui ha illustrato così bene ma soprattutto cioè non c'è stato non è un intento puramente turistico questo che ho notato e che mi ha fatto molto piacere cioè su ogni oggetto o su ogni tema che Fabrizio ha toccato c'è un discorso o una ricostruzione storica del contesto no che è molto è molto interessante e che capisce allontana da alcune guide turistiche che pure così si sono fatte per altre città o altro quindi sulla storiografia del novecento soprattutto va bene non conoscono non conoscono l'italiano gli storici stranieri e quello che di rilevanti hanno fatto o scienziati italiani o fisici italiani non lo conoscono e candidamente ammettono che la loro bibliografia si limita a testi in lingua inglese o francese che dirsi voi va bene questo è un grosso handicap chiaramente si può si può ribaltare questo solamente se noi siamo in grado di diciamo confrontarsi a quel livello quindi così bisogna scrivere in inglese e far vedere che noi che conosciamo appunto alcuni autori italiani di evidenziare quello che sono capaci di fare però ripeto questo è un discorso troppo lungo e troppo complesso anche per va bene grazie Fabrizio grazie a te grazie anche a Pasquale Mauro prego sì ciao Fabrizio grazie grazie per la tua bellissima presentazione ma diciamo non c'era neanche neanche bisogno di farti complimenti anche la tua narrazione però fa sempre piacere mi limita curiosità per cui diciamo non ho molto da aggiungere o da chiederti hai fatto vedere proprio in una delle prime slide una immagine di una cometa non so se è un dipinto un affresco un manoscritto la domanda è uno se ti ricordi da dove è stata presa e l'altra è quella dell'82 o del 52 la cometa arrivo eh mi pare che ce l'ho qui non so se è la prima o la seconda slide che hai mostrato è quella del 1682 adesso se ci riesco ricondivido un attimo perché facevi riferimento all'attività di Cassini a Bologna però mi pare che il testo di Cassini sia sulla cometa 552 o no vediamo se è questa questa è qui questa è qui esattamente questo qui è un ingrandimento di un di un angolo si vede qui che è l'angolo di un di un grande foglio che si chiamava insigna degli anziani cosa era? cioè dei grandi manifesti che venivano portati in giro per la città e che rappresentavano gli eventi più significativi che erano avvenuti in un certo periodo all'interno della città come si usava per quell'epoca la cioè qui giusto per è curioso notare l'incredibile pendenza della torre della Garisenda questa è la cometa del 1682 studiata da Cassini ma Cassini era già a Parigi all'epoca e qui vedete sullo sfondo delle costellazioni per illustrare il percorso il percorso della cometa in questi grandi manifesti nei bordi c'erano figure di varia umanità quello del 1682 o nell'anno successivo evidentemente aveva colpito ovviamente questa grande cometa per cui l'avevano riportata in uno di questi manifesti storici che sono bellissimi perché sono manifesti di grande formato formato atlantico illustrati colorati con foglie d'oro perché dovevano rappresentare il meglio della città e sono chiamati si chiamano le insignia degli anziani gli anziani della città cioè erano i segni più importanti per gli anziani della città per i senatori grazie altra curiosità siamo sempre ripeto al livello di curiosità il racconto che ci hai fatto delle sorelle di Manfredi che mi è venuto in mente altro che Sorine della Spegola Vaticana o la Colf di Pickering a Harvard erano ben più 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 antiche nel diciamo nell'aiutare l'astronomo a far da conto siamo nei primi del Settecento e le due sorelle Manfredi o di Carolina Erschel ecco visto che arriva assieme alle due sorelle di Eustachio Zanotti che è l'astronomo discepolo allievo di amico di Manfredi sono quelle che si danno da fare per arricchire questo circolo culturale femminile bolognese in epoche in cui non c'erano ancora state forme di oscurantismo così pesanti anche nei confronti femminili il Settecento è stato un anno diciamo abbastanza libertino sotto tanti punti di vista c'è una serie di lettere scritte da Manfredi sono state stampate insomma scritte da Manfredi agli amici a Stacchio Zanotti a Stancari ad altri cose che ti avrebbe potuto scrivere d'annunzio non non tanti altri insomma oggi non so se uno scrive non si è in grado di scrivere le stesse cose a un amico o meno almeno ai miei tempi non si sarebbe fatta poi per le traduzioni al napoletano si saranno fatte aiutare da amici del collegio Ancarano visto che là c'erano i napoletani perché il collegio è a 50 metri dalla torre però anche questo è un bel racconto come diceva Pasquale aver arricchito non soltanto un percorso diciamo così turistico ma con uno studio storico così raffinato è un bel lavoro sono ancora a conflitto va bene grazie è quello che mi ha divertito di più cioè non tanto andare a vedere molte di queste cose quelle scientifiche che sono astronomiche le conoscevo già alcune più alcune meglio altre peggio ma insomma erano tutte cose che bene o male facevano parte delle mie conoscenze quello che mi ha divertito di più è stato invece andare a frugare intorno in quello che guarda casa è quello che proprio dice Calvino all'inizio proprio negli intagli nelle singole cose vi è risparmiato una quantità di volte dipinte delle ranze dei colori alcune di queste poi le conoscono a malapena perché ho trovato delle immagini in giro ma in case private non tutti ci si può andare alcune hanno delle buone descrizioni fatte da persone più ci si può fidare in altre non sa mai cosa dicono insomma quindi insomma c'è un mondo nelle nostre città astronomico che si può provare a scoprire come hanno fatto alcuni colleghi in altre città grazie ancora grazie Mauro assolutamente una bellissima idea infatti sì e allora c'è qualche altro che vuole aggiungere qualcosa o altrimenti Salvatore Presidente ah Fausto prego prego Fabrizio voglio farti una domanda molto rapida relativa appunto alle forze di Corioli che erano già conosciute quando si cercava che la misura diciamo nella torre oppure no no sono della metà dell'ottocento ecco gli esperimenti sono 1790-92 quindi ancora era proprio 1790-92 adesso non ricordo Corioli di preciso ma è la metà dell'ottocento Leon Foucault invece conosceva benissimo questa storia e quindi anche la proiezione diciamo dell'asse pendolare sapeva che doveva essere indipendente altrimenti non funzionava oppure anche lui era un tentativo che stava facendo e che poi è ben riuscito ecco questa a Foucault a Foucault sì sì pensavo che fosse esatto siccome lui che poi ha dimostrato questo fatto sulla rotazione della terra la velocità della rotazione e quindi volevo ecco era già certa la cosa che c'erano queste forze controproducenti per quanto riguarda la misurazione dello spostamento credo che all'epoca di Foucault fossero già conosciute anche matematicamente sì però non so dirti più di questo perché no no era soltanto per dire che l'una non c'era la conoscenza e nell'altra sì insomma gli anni sono quelli dei problemi principali di Foucault non solo di Foucault che è stato il primo ma anche tutti seppendoli successivi come ben sai fino ad oggi sì sì l'abbiamo fatto anche ad Arezzo quindi la cattedrale l'abbiamo fatto io sì lo so c'era qualche problema avete pubblicato sì sì anzi grazie a te che fu pubblicato certo sì sì quindi il problema principale è la torsione eh sì il filo d'acciaio ah di tra l'altro c'era 28 28 metri non erano poi tanti ma comunque si è riuscito bene quindi sopra 25 ancora riesce ecco sotto comincia a essere difficoltoso perché ho provato anche ma ma va sempre in cerchio certo arriva prima Corriuli che non la rotazione del resto ti ringrazio comunque per la tua bellissima serata che ci hai fatto passare almeno a me personalmente non ho smesso non ho perso neanche una parola quindi grazie alla SISPA grazie a te e agli organizzatori alla prossima grazie grazie a te grazie a te